Nihau, buongiorno, mi presento, sono Giulio Di Sabato, presidente di Sarispazio Fashion Showroom, uno dei più importanti showroom italiani e presidente di Assomoda. Innanzitutto voglio cogliere l'opportunità di ringraziare il presidente di Xi Group, Mr. Tao Li Qiang, e il chairman Mr. Gu Yinan, che ho avuto il piacere di ospitare nel mio showroom durante il loro viaggio di lavoro in Italia. Dopo gli anni dedicati alla distribuzione dei grandi marchi della moda italiana, è arrivato anche per la Cina il momento della promozione e della distribuzione delle piccole e medie imprese del bel paese, che ogni anno danno vita a marchi di moda di altissima qualità, interamente made in Italy, con le carte regola per poter entrare nel più grande mercato del mondo. La Cina ha infatti la necessità di soddisfare la sempre crescente domanda da parte della nuova middle class di poter vestire alla moda, e quella dell'upper class, che è abituata a vestire marchi famosi, è sempre più alla ricerca di giovani brand esclusivi. Come imprenditore e presidente di Assomoda, la più grande associazione di agenti e distributori della moda, sono ormai in molti anni che mi occupo di soddisfare le richieste di clienti internazionali, cercando di proporre ad ogni nuova stagione i giovani talenti del Made in Italy. Credo fortemente che l'apertura del nuovo mall di Shig Group, che favorisce l'ingresso e lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane sul territorio cinese, sia un'ulteriore opportunità per aprire le porte del più grande e importante mercato del futuro, a coloro che saranno domani i nuovi nomi della moda internazionale. Entusiasta e curioso di potervi venire a trovare quanto prima, vi auguro tutto il successo che un'iniziativa di questo tipo merita, con un'affluenza di pubblico che gratifichi e ripaghi tutti i vostri sforzi e consolidi il legame tra Italia e Cina, all'insegna dello stile, della bellezza, del cibo. L'Italia della moda e delle piccole e medie imprese è tutta con voi. Sì, sì, grazie mille.